Alberto Pompizzi, ricordiamo l'importanza del progetto che comprende 12 comuni della Vibrata. Il nostro territorio è di 80.000 abitanti, abbiamo il 60% del turismo provinciale e quindi ci siamo preoccupati giustamente nel 2008 per entrare in possesso dei fondi FAS e dare uno slaggio all'economia della provincia e della Val Vibrata. Con profonda delusione la scheda non si sa dove è finita, pare che sia rimasta alla provincia di Teramo, nel frattempo cambiò l'amministrazione provinciale, e né D'Agostino e né successivamente il presidente Catarra si sono preoccupati di spedire la scheda FAS alla Regione. La Regione, stranamente, che cosa ha fatto? Ha preso, appena è entrata la Giunta Chiodi, ha preso una serie di provvedimenti che avevano lì e li hanno inseriti nel piano FAS. Questo appena la Giunta Chiodi si è insediata. Quando l'Unione dei Comuni, sotto la mia presidenza, si accorta che la scheda FAS non era andata alla Regione, fra le nostre proteste, ci sono state anche le nostre proposte. E quindi ci siamo sbrigati subito a mandare la scheda FAS al presidente Chiodi. Da qualche anno non ne sappiamo più niente. Io sono sicuro che il presidente Chiodi, è una persona molto attenta, rimodulerà i fondi FAS in base alle esigenze di tutti i territori. Altrimenti ci considereremmo esclusi dalla Regione Abruzzo e dalla provincia di Teramo. Grazie a tutti.